il deposito museale di arte sacra samuele cecchi è situato all'interno dell'oratorio della confraternita del santissimo sacramento e croce e conserva opere d'arte arredi sacri reliquiari oltre all'archivio parrocchiale i cui documenti risalgono al quindicesimo secolo di particolare valore storico la madonna della polvere o dei miracoli che ritrae un avvenimento della guerra contro gli estensi il nemico colpisce il torione della polveriera sulla rocca senza causare danni solo un gran polverone in cui la madonna appare per la salvezza del borgo di pregevole fattura di artista locale la crocifissione che ritrae i santi rocco sebastiano fabiano e barbara così come il san paolino il vescovo patrono di lucca che tiene in mano la città e la benedice nelle teche si custodiscono gli oggetti liturgici calici pissi di patene la tavola pacis croci come quella di giovanni vambrè della nota famiglia di artisti fiamminghi turibolo e navicella di francesco simi ostensori e reliquiari come quello che custodisce la reliquia del velo della madonna quello in filigrana di argento con la reliquia di santanzano e in legno il braccio di santireneo è presente una piccola madonnina senza bambino e senza corona originariamente posta all'interno di una nicchia contornata dai dodici apostoli il manichino della madonna dei sette dolori la cinquecentesca madonna del carmine stato a linea rivestita ed ornata di gioielli il trittico di vincenzo civitali san pietro san paolo e la madonna con bambino a cui è legato un aneddoto di un sabato notte di fine 1800 in cui le statue venero portate all'esterno con un castagnaccio prodotto tipico con farina di castagne attaccato al collo e un cartello con su scritto dove vai pietro e il santo che risponde va per necci